Sono 109 su 125 i dipendenti della Caterpillar di Cernusco sul Naviglio licenziati una settimana fa tramite raccomandata. Fuori dai cancelli, presidio permanente in attesa e nella speranza di ricevere buone notizie dall'incontro con l'azienda fissato per il 19 ottobre. È una ferita che si riapre, così Paolo Pettinaroli, presidente del comitato 8 ottobre per non dimenticare alla commemorazione delle vittime dell'incidente aereo di Linate. Sulla sicurezza abbiamo ottenuto molto, ha aggiunto tanto da essere invitati da una società americana ad organizzare un convegno sul tema nel 2010. Da Velasquez a Ribera a Zurbarana a Murillo. Al Castello Visconteo di Pavia in mostra 50 opere dei cosiddetti pittori del secolo d'oro selezionate tra le centinaia che costituiscono la raccolta di pittura spagnola dell'Ermitage di San Pietroburgo, la più ricca al di fuori della Spagna. Benvenuti gentili telespettatori a questa edizione del nostro telegiornale. Presidio permanente dunque a Cernusco sul Naviglio davanti alla Rapisarda, azienda comperata dalla multinazionale americana Caterpillar due anni fa. Venerdì a sorpresa è stata annunciata la chiusura dello stabilimento e di fatto il licenziamento di 109 dipendenti tra operai e impiegati. Salvi invece 16 dirigenti. Di nome e di fatto è passata sul lavoro degli operai con la stessa inarrestabile forza. La Caterpillar, 90.000 dipendenti nel mondo fino alla fine dell'anno scorso, causa crisi ha tagliato un terzo del personale e la mannaia si è abbattuta anche sulla Rapisarda, azienda che aveva comprato poco più di due anni fa. Quattro sedi in Italia, quella di Anagni ha già pagato il conto, meno 50 dipendenti e ora per la Rapisarda una storia industriale di 90 anni, il saldo o quasi è presentato nel peggiore dei modi a Cernusco sul Naviglio. C'è stata comunicata la notizia brutale, in modo brutale, della chiusura dello stabilimento. Praticamente ci siamo trovati i cancelli chiusi quando noi fino al giovedì, gli operai fino al giovedì sera alle 10 hanno lavorato. È stata una notizia che veramente ci ha scioccato perché gli americani hanno sempre messo le persone in primo posto, hanno sempre fatto corsi sull'etica, sull'importanza del personale, sull'involgimento del dipendente e poi trattano le persone in questo modo, dirigenti che non si sono fatti vedere, non hanno dato spiegazioni. È stata una notizia veramente scioccante. Inoltre ci sono tutti questi aspetti di rapporto con l'azienda che sono proseguiti in modo normale in questi mesi. L'ultimo esempio è stato che a luglio l'azienda è stata aperta per un incontro con le famiglie e tutti abbiamo a casa una foto con i nostri figli, in cima a un caterpillar appunto e a settembre è iniziato a avere delle grosse difficoltà l'azienda. Ci hanno trattato come pezzi da piedi e ci hanno sbattuto fuori, ci hanno colpito nella nostra dignità. Questa è la cosa più brutta che potevano fare. Sono un po' sfigato perché ho appena portato la famiglia qua, moli i bambini, dal giorno dopo mi trovo senza lavoro. Anche col problema del permesso di soggiorno? No, è tutto legato, sì. Perché con questa nuova legge sulla sicurezza, un straniero che perde il lavoro diventa dopo clandestino. Adesso praticamente voi siete qua a presidiare 24 ore su 24. Siamo qui su tre turni, siamo qui su tre turni, 24 su 24, tutti i lavoratori ovviamente. Perché non volete che portino via i macchinari, la merce? Noi non chiediamo niente, vogliamo solo il posto di lavoro, tutto qua. Non vogliamo niente, solo il posto di lavoro. E adesso ho spazio a un'altra polemica, quella sui molteplici incarichi e relativi stipendi del presidente di AMSA, Sergio Galimberti. Oggi l'interessato ha replicato, sentite. Non c'è nulla da dire, è una posizione politica, non riguarda le parti tecniche per cui l'affronteranno in sede politica. Così il presidente di AMSA, Sergio Galimberti, risponde dopo la polemica sollevata sulla molteplicità di incarichi rivestiti dal manager all'interno.